Si chiama Ar Murk, pensate che è un uomo il quale si è salvato grazie ad un paio di jeans. I pantaloni che tutti noi utilizziamo, trasformati infatti in un galleggiante di emergenza, hanno consentito all'uomo in questione di sopravvivere nel mezzo di un oceano. L'uomo ha 30 anni d'età, la vicenda si è verificata a largo della costa neozelandese di Gismor. I due fratelli stavano infatti portando una barca dalle coste dell'Australia fino, pensate, al Brasile. Lo stesso Arne avrebbe raccontato di essere riuscito a sopravvivere come per magia, come per miracolo, confiando di aria proprio i jeans che si portava addosso. Stava navigando in compagnia del fratello a bordo di Guau, barca a vela di 12 metri. Un improvviso movimento del bomba lo avrebbe spinto in acqua, ma l'uomo ce l'ha fatta. Adesso lo riuscita a sopravvivere a si jeans causato. Per essere per l'ascolto il video termina qua la saluta e al prossimo video.